Ehi la ciurma, innanzitutto devo avvisarvi che questo video è ridoppiato perché l'audio è venuto sfalsato come potete aver saputo forse dal pagina facebook se per caso mi seguite e se non lo fate già andate a seguirmi, il link è in descrizione e potete trovarlo qua sotto in pratica l'audio è venuto troppo alto quello del gioco rispetto al mio parlato e quindi sto ridoppiando il gioco una volta che è già stato registrato di conseguenza probabilmente non dirò le stesse identiche cose, non le dirò nello stesso modo, forse il mio parlare non sarà molto collegato e inoltre dubito ci sarà al sottofondo del video però comunque volevo presentarvi il gioco per bene come si deve e quindi eccomi qua Allora innanzitutto si tratta di Plantera, è un gioco che ho ricevuto gratuitamente per fare una recensione ma secondo me dato il suo bassissimo costo che è di circa 3 euro se non ricordo male potete trovare anche gratis secondo me girando per la rete in qualche giveaway o in qualche bundle in pratica si tratta di un clicker game diciamo in cui in pratica clicchi e basta e come potete vedere qua sto già cliccando abbondantemente sullo schermo anche sfruttando il mio utilissimo tasto di doppio click del mouse da gaming in modo da farmare più velocemente gli oggetti in pratica questa che vedete è una situazione già un po' avanzata perché ho iniziato una partita in precedenza per capire un po' come funziona il gioco e visto che farò probabilmente solo questo video e non farò mai una serie di questo gioco ho detto forse è meglio presentare una situazione già un pelo avanzata per far capire le varie componenti della partita piuttosto che iniziare un nuovo gioco e fare semplicemente vedere le parti iniziali della partita che secondo me sono anche le più noiose diciamo perché un po' in questi simili manageriali c'è da avviare la partita prima che si svolga qualcosa di un pochettino più movimentato innanzitutto devo dire che è molto coinvolgente nel senso che a un certo punto ti ritrovi là a continuare a calcare e poi dici ah no devo raccogliere questo, ah no devo raccogliere quell'altro ma guarda quell'albero ha finito di produrre e quindi sei sempre a produrre come potete vedere non siamo gli unici a raccogliere gli oggetti perché ci sono questi esserini blu che vedete navigare sullo schermo navigare e camminare sullo schermo con lo zainetto che raccolgono per noi quello che sto facendo vedere adesso in basso probabilmente in pratica sono le piante che si possono piazzare si possono piazzare delle piante in basso come avete visto, che potete vedere giù sul terreno come dei ravanelli eccetera eccetera e le altre piante come ho stato attivo fa sono le piante intermedi sono i cespugli che sono di tipi diversi da quello che vende a un prezzo maggiore a quello che vende a un prezzo minore per esempio qua adesso sul schermo ci sono i lamponi le melanzane che ovviamente non sono per niente verosimili e dei mirtilli, la potete vedere sulla destra sto raccogliendo qualche lampone e qualche melanzana dicevo questi omettini blu con i sacchi raccolgono il posto nostro uh arriva un, non mi ricordo mai come si chiamano questi qua si chiamano hero qualcosa e loot hero forse e in pratica ogni tanto attraversano randomicamente lo schermo e tu cliccandoci sopra guadagni un sacco di soldi ogni volta che passano ogni volta che ci clicchi sopra e quindi niente ogni tanto forniscono dei soldi in più ogni volta che riappaiono aumentano i soldi che droppano che ti danno quando ci clicchi sopra e quindi sono sempre più interessanti cioè interessanti nel senso che ti danno più soldi dopo aver guardato i cespugli andiamo a guardare un attimo gli alberi gli alberi come potete vedere il primo è l'albero di mele poi ci sono le pere, le arance, le ciliegie e gli ultimi che non so che cosa siano mi sembrano tipo un pelmi o comunque qualche tipo di agrume e credo che anche quando ho registrato il video ho fatto questo discorso del non sapere esattamente che cosa sono ovviamente costano di più man mano che il frutto rende di maggiormente e ogni volta che l'albero viene pezzato ma questo per tutti i tipi di pianta aumenta il costo del successivo qua invece c'è lo slot degli animali che avete visto razzolare per terra ci sono galline, base, poi ci sono i maiali che possono trovare quattro tipi di oggetti come sto facendo a vedere in questo momento o del fango, degli stivali, delle pietre o delle pepite e vendono a prezzi diversi questi non sono i prezzi base ma dopo ne parleremo un attimo quando parlerò degli effetti speciali le pecore poi ci sono che forniscono della lana e le mucche che forniscono appunto del latte e scorazzano l'all'interno non mangiano quello che produciamo noi ma sono un po' a rischio loro stessi ma ne parleremo tra un attimo non mi ricordo assolutamente di cosa stessi parlando al momento stavo sfogliando così di nuovo gli animali ah, ho detto di sicuro che non capisco perché ce ne siano sbloccati solo quattro e non cinque perché per tutte le altre cose ci sono cinque e là sono solo quattro ecco questi qua sono gli oggetti speciali inizio a parlare degli spaventapasseri che in pratica come potete vedere sono dieci su dieci li ho posizionati in tutti gli slot posizionabili servono per spaventare gli uccelli in questo momento forse non vedremo degli uccelli ma più tardi sì gli uccelli appaiono come degli altri animati cattivi per rubare la frutta o comunque la verdura che viene prodotta come avete visto adesso ho picchiato appena un lupo e una volpe che sono degli altri animoletti cattivi che vengono invece per mangiare in un certo senso cioè far scappare via gli animali nostri un coniglio sta scappando adesso sulla sinistra se avete potuto notare oppure mettete in pausa e tornate indietro e guardate il coniglietto che scappava ma se fate attenzione probabilmente ne vedrete altri sullo schermo nel frattempo poi ci sono le talpe che in realtà non servono ah, è passato un coniglio in là eccolo, guardate che adesso sta scappando ci sono anche le talpe che non servono particolarmente a molto e cioè nel senso appaiono e danno dei soldi se tu le picchi forse no neanche, credo niente e le cucinelle che danno un sacco di soldi se tu le clicchi le farfalle ogni tanto potete vedere che ci clicco sopra perché anche loro danno soldi ma non... ah, ecco una cucinella là sulla destra potete vedere vicino alle zucche che crescono non sono degli animali cattivi le farfalle sono là semplicemente per dare dei soldi dopo un po' diventano... eh, ecco un uccellino che ho appena spaventato diventano... maturano non è che maturano però a un certo punto diventano dorate vedete là c'è una farfalla che non è ancora cliccabile perché non ha ancora un... l'alone giallo intorno quelle invece sulla destra quelle due gialle ci ho appena cliccato sopra sono... danno dei soldi quindi gli spaventapasseri servono appunto per far scappare gli uccelli ma gli uccelli soltanto più sulla sinistra potete vedere che rispetto allo slot degli spaventapasseri ci sono i cagnolini i cagnolini in questo momento ne ho 5 e servono per spaventare gli animali di tutti i tipi sia gli uccelli che i conigli le talpe no ma... ah sì, le talpe danno soldi volpi e lupi che sono diciamo i più pericolosi perché fanno scappare gli animali come vedete quell'uccellino è scappato per lo spaventapasseri e che quindi vanno piazzati e diciamo pattugliano i cani tutta la zona e se per caso incontrano qualche animale l'animale viene fatto fuggire adesso ci sarà uno strano glitch per cui il cane inseguirà la volpe e sparirà dello schermo 3, 2, 1 sparito e non torna quel cane non ho mai capito perché è ancora rimasto là cioè in realtà non li ho contati ma non l'ho visto riapparire come vedete l'altro cane invece è tornato indietro ha fatto la ronda normale ed appare un altro loot hero mi pare che si chiami loot hero ma adesso non mi ricordo mi pare che sbloccheremo anche un achievement non mi ricordo se però l'overlay di steam si vede nella registrazione di action su obs di sicuro sì ma con action forse no e credo di no perché forse era questo il loot hero che ci faceva guadagnare l'achievement comunque accanto c'è quel sacco diciamo accanto al cane c'è il sacco che indica il prezzo a cui vengono venduti gli oggetti perché di base per esempio le carote che ho visualizzato un attimo fa vengono vendute a una moneta per ogni carota il moltiplicatore ogni volta raddoppia la produzione di monete come potete vedere il moltiplicatore è per 9 quindi è 9 volte che raddoppia quindi una carota al posto che droppare 1 droppa 18 e così via un altro al posto che droppare 2 dropperà 36 eccetera eccetera anche i mirtilli come potete vedere ci ho cliccato un attimo fa hanno venduto 18 che di base ecco un mirtillo 18 che di base vendeva invece a 1 il moltiplicatore ovviamente costa parecchio però costa e vedete la carota adesso sto evidenziando che all'inizio vende a 1 poi con il moltiplicatore vende a 9 questo si applica per tutti i guadagni anche per quelli delle farfalle, delle cucinelle eccetera eccetera l'ultimo invece è la sveglia che in pratica allunga l'orario in cui dopo la chiusura del gioco gli omettini azzurri raccolgono oggetti quindi vuol dire che al momento io con l'attuale livello quello di 11 ore una volta chiuso il gioco gli omettini blu lavoreranno ancora per 11 ore quindi raccogliendo e farmando del denaro se per caso tornassi all'inizio del video potreste vedere che gli omettini blu hanno raccolto avevano raccolto del denaro dicevano quando eri essente gli omettini, i pupazzi non so come si chiamano i tuoi aiutanti forse dice hanno raccolto 8 milioni per te e questo è molto utile perché oltre a tenerlo aperto a FK diciamo per farmare soldi è possibile farmare soldi anche quando il gioco è chiuso proprio chiuso come anche molti altri clicker game come Adventure Capitalist che magari potreste conoscere o altri del genere in cui anche restando a FK ci sono diciamo degli addetti che cliccano per te in quel caso qua invece che raccolgono e vendono la frutta che alla fin fine è un po' come se ci fossimo noi l'unica cosa è che come potete vedere sono molto poco efficienti rispetto a noi si generano parecchi ammassi di frutta e verdura in venduta che restano là per un tot e fin dato che ci siamo noi la situazione è gestibile quando non ci siamo noi i guadagni scemano un po' altri bonus che ci sono sono i cani e gli spaventi passi che quando noi siamo col gioco chiuso aumentano leggermente i guadagni quindi in pratica vanno un po' a compensare gli oggetti che non vengono raccolti dai pupazzi quello che vado a esporre adesso è l'espansione del giardino perché ovviamente all'inizio si parte con un giardino molto più piccolo ma pagando 8 soldi si può espandere e si può quindi occupare una nuova zona come potete vedere con una pianta bassa da un lato e una dall'altro un cespuglio una pianta cespuglia media quindi e una volta ogni due anche l'albero perché l'albero occupa diciamo una specie di uno slot e mezzo quindi solo ogni tre slot ci sta l'albero cioè ogni tre slot ci stanno due alberi ma non tutti gli slot ci sta un albero in questo slot invece ci stava l'albero mentre nel penulti no forse anche nell'ulti però comunque sono sfalsati rispetto agli altri livelli perché sono più larghi e come potete vedere in questo invece ci stavano e ho pezzetto anche quelli sono salito al livello 27 e quindi ho aumentato il livello sia dei maiali e ho ottenuto un ovettino blu in più che è un'ottima cosa perché ovviamente più ovettini blu ci sono più aiutanti meno è il lavoro da fare di cosa sto parlando in questo istante non lo so assolutamente e non so neanche quanto manchi alla fine del video no ecco lo so lo sto guardando manca ancora un discreto tempo ovviamente i livelli ah forse sapete cosa sto facendo sto facendo vedere gli achievement ma l'overlay di steam non si vede su action e quindi per fortuna che l'audio è stato ridoppiato perché altrimenti mi avreste sentito parlare di achievement di cui non potete vedere un fico secco di niente se riesco mostrerò poi uno screen qua a questo punto di quali sono gli achievement diciamo di plantera in pratica gli achievement base sono quelli di scacciare tot animali cliccare su tot farfalle mi pare 500 farfalle scaccia 200 talpe scaccia 200 conigli scaccia 100 volpi 100 lupi in più c'è clicca 100 volte sul loot hero i loot hero sono apparsi per la prima volta i loot hero sono apparsi per 100 volte hai piantato 100 piante hai raggiunto 100 milioni di monete hai raggiunto il livello 10 hai raggiunto il livello 50 in pratica gli unici un pochettino più complicati da raggiungere sono quelli delle farfalle e dei loot hero perché richiedono che tu sia là mentre per gli altri molto spesso anche restando fk non è un problema perché per esempio quello di raggiungere il livello 100 basterebbe lasciare la partita aperta a farmare soldi e il livello 100 prima o poi si raggiunge certo è meno efficace perché non si continua a espandere il giardino non si continua a piantare nuove piante non si continua a incrementare diciamo il guadagno però a un certo punto si raggiunge anche quello e allo stesso modo quello di spaventare totto animali perché sia gli uccelli che le volpi che i lupi che i conigli vengono spaventati da spaventati guardate queste farfalle wuuu vengono fatti scappare dai cani e dagli spaventapasseri quindi per quello non è necessaria la nostra presenza gli altri achievement più complessi appunto sono gli altri anche quello di piazzare totto piante perché c'è anche piazza 100 non mi ricordo come si chiamano le piante basse comunque 100 piante chiameremo piante basse piazza 100 piante basse piazza 100 cespugli piazza 100 alberi sono degli achievement abbastanza lunghi anche perché 100 sono parecchie a un certo punto mi metto anche a coltarle mi pare e qui in gioco mi pare di avere contato una cosa come circa 26 alberi o una cosa del genere ma adesso probabilmente mi metterò a contarli tra un attimo e lo vedremo in contemporanea è un po' strano effettivamente quello di doppiare un proprio video e mi dispiace perché verrà anche meno naturale meno spontaneo non sono molto abituato a ridoppiare video ma davvero con l'audio che c'era facevate fatica a capire che cosa io stessi dicendo e registrare di nuovo tutto da capo mi scocciava un po' quindi ho detto vabbè il video è venuto abbastanza bene teniamolo facciamo un doppiaggio così comunque si capisce il gioco la musichetta comunque se per caso foste interessati è molto carina e potrete rivedere anche questo gioco in un prossimo video che apparirà prossimamente che ho registrato prima e l'audio è venuto bene perché ho registrato dopo aver registrato la prima volta questo video quindi è un po' strano forse da capire ma ho registrato questo per bene poi ho registrato un altro video avendo sentito che l'audio non era venuto bene ma non un video su plantera un video che vedrete e poi solo adesso mi sono messo a registrare l'audio di questo video quindi c'è stato un po' uno sfasamento sono stati messi un po' a panino diciamo stavo contando gli alberi no non stavo contando gli alberi stavo raccogliendo perché poi è un sacco coinvolgente questo gioco perché come dicevo prima continui a cliccare perché dicevo mannaggia quello cresce quello cade quell'altro posso espandere sto salendo di livello posso mettere l'altro posso sostituire buttare via una pianta e metterne una più costosa eccetera eccetera la cosa scusate torno a ammuzzo proprio sul questione achievement la cosa particolare degli achievement è che quello di mettere 100 alberi che è l'achievement meno realizzato di tutti su steam ha comunque una percentuale discretamente ampia di gente che lo ha raggiunto circa il 6% quindi vuol dire che in generale è un gioco anche abbastanza apprezzato a parte che le valutazioni su steam sono abbastanza positive mi pare l'80% o il 70% di giocatori ha apprezzato questo gioco e il fatto che gli achievement difficili vengano raggiunti da un discreto numero di persone vuol dire che un discreto numero di persone raggiunge la parte finale del gioco e i primi achievement con le un pochettino più facili ma non immediatissimi hanno comunque una percentuale molto alta di persone che lo raggiunge tipo 70% 80% quindi vuol dire che in generale molti di quelli che avviano al gioco ci giocano poi effettivamente tanto da raccogliere degli achievement e questo nonostante sia un gioco che ho visto recensito da molte persone su internet su youtube e ho visto che comunque molta gente ha anche magari ricevuto gratuitamente perché è stato dato a molti youtuber per fare una recensione è stato un po' una campagna tappeto io ho detto ma perché no nel senso in questo periodo non ho grandi possibilità di portare dei titoli un pochettino più impegnativi come possono essere Spore oppure Mindtest o Magic perché il tempo per registrare è davvero molto poco tanto che qui ho registrato la scorsa settimana e mi ritrovo una settimana dopo a mettere l'audio e quindi per un po' probabilmente caricherò video di questi tipo quando riesco se riesco non so quando riuscirò e se riuscirò non so prima se sono rimasto così tanto su queste scrivate mi sono perso quando ho contato gli alberi però io direi che posso anche salutarvi perché quello che dovevo dirvi ve l'ho abbastanza detto adesso il video continuava ma purtroppo non ricordo che cosa avessi detto in quel momento quindi io vi invito a lasciare un mi piace se per caso l'episodio vi fosse piaciuto a lasciare anche un commento iscrivervi se per caso non l'aveste ancora già fatto vi invito davvero un sacco a mettere mi piace alla pagina facebook dove pubblico degli annunci in futuro potrei magari anche creare un canale telegram visto che utilizzo parecchio telegram se per caso c'è qualcuno di voi che è interessato alla questione lo scriva nei commenti mi faccia sapere e buona giornata a tutti ciurma e alla prossima grazie